E dopo l'Euro Derby dell'andata di Champions League, un alto derby tra Milan ed Inter ha caratterizzato queste giornate, infatti ieri si è giocato il derby primavera tra Milan ed Inter, che ha visto come risultato finale un bel 2-2. E' veramente una partita ricca di emozioni che ha messo in luce alcuni giocatori, ma che fondamentalmente allo stesso tempo ha palesato le difficoltà del calcio moderno, soprattutto in relazione a un ruolo. Ma veniva appunto, non dico la partita perché non voglio fare un po' spartita, anche perché ripeto, lo ritengo abbastanza inutile, però ci sono stati alcuni giocatori che veramente mi hanno confermato le loro grandi doti. In primis un André Kubis che ha iniziato come centrale di sinistra, un difesa 4, ma che è stato un po' in difficoltà, soprattutto perché lui ha queste doti di corsa, contate sempre che può giocare anche da esterno destro, di corsa, di cattiveria, di portare la palla al piede, insomma, conducendo l'azione. Invece è rimasto un po' bloccato nei primi minuti ed è andato un po' in sofferenza, soprattutto perché essendo un giocatore molto potente, però magari spesse volte si trovava di contro giocatori rapidi come magari uno Vusu, un Martini, insomma, è andato un pochino in difficoltà. Nel secondo tempo, quando poi è stato spostato da esterno destro, quando poi è stato espulso Casali, ha dimostrato un pochino, o meglio, si alternava tra ruolo di terzino destro e di centrale, ha dimostrato appunto le sue qualità. È veramente un giocatore tanto interessante, classe 2003, duttile, che potrebbe essere tecnicamente convocabile in nazionale italiana, però già qualche mese fa si parlava del fatto che lui volesse seguire la corte della Romania. Quindi, eventualmente, un altro talentino sbocciato, cresciuto in Italia, potrebbe, insomma, dire addio ai nostri colori. Un Cubis che quello che fosse mai convocato in Italia, con l'azione italiana, sarebbe molto più legittimato rispetto alle Teghi. Comunque, un altro giocatore del Milan che comunque ha fatto bene, discretamente stato Stamac, la mezzala, bel fisico, bella corsa, però in generale un pochino il centrocampo del Milan è stato in difficoltà. Nel senso che, a volte, come posizioni si alternavano tanto. Eletu si alternava con zero nella posizione di Mediano, poi Eletu è andato a fare la mezzala, poi Stamac avanzava e dava magari un pochino più una mano ai Lilali e gli esterni offensivi del Milan, che erano Cuenca e Sheik Traoré. Però, insomma, un pochino troppo ballerini. Infatti, comunque, il centrocampo a tre dell'Inter del primo tempo ha avuto nettamente la meglio, con un altro grandissimo talento, Stankovic, Aleksandr Stankovic, classe 2005, ancora 17enne, bel fisico, bello piazzato, non muscolatura clamorosa, però bello forte. Bello forte, un bel tiro, bella visione di gioco, posizionato lì come centrale di centrocampo a dettare i tempi di gioco, veramente un giocatore tanto interessante. Comunque ha disputato un'ottima stagione con l'Inter primavera. Un Milan che ha visto un Lilali un po' in ombra. Io continuo a pensare che Lilali, nonostante il suo grandissimo score quest'anno, metterlo come punta centrale, lo vedo un pochino forzato. Nel senso che lui è più uno che svaria tanto, che apre gli spazi, allora ho i mezzali che si inseriscono e lo schiedi come falso Nueve, ma se vuoi una vera punta, un Lilali. Non lo vedo troppo pronto, ma non tanto a livello fisico, quanto a livello di movimenti. Perché non si muove come un raspadore, un simeone, ma uno che svaria a destra, svaria a sinistra, gli piacerebbe anche entrare una volta a centrocampo, prendere la palla. Ecco, è stato un pochino condizionato a questa cosa, ma comunque fornisce l'assist per il gol del pareggio di Cuenca, del 2-2, con un Milan in dieci. Un erroraccio di Cassama, che si fa rubare palla, poi Ilali prende il pallone, grandissima intelligenza, da una posizione centrale al limite dell'area che poteva tranquillamente tentare il tiro in porta. Vede Cuenca sulla destra, sul lato destro dell'area, del centro destra dell'area, libero, lì va a passare la palla e batterete. Quindi, gol appunto del 2-2, con Cuenca che batte Bottice. Un Inter che, ripeto, secondo me, in Ovusu e in Stankovic ha visto i suoi main of the match. Perché Ovusu ha fatto impazzire Casali e comunque la mezzala che poteva essere Stalmak, ma è normale, perché comunque Stalmak, ripeto, è uno che è un box-to-box, ma molto più offensivo. Anche se comunque una mano in difesa l'ha data. Però, insomma, Ovusu ha messo molti in difficoltà, anche perché Cuenca copriva se no e Casali. Ora parleremo dei terzini. Però comunque Ovusu, con la sua velocità, ha fatto un gol bellissimo, un gol veramente bello. Si è mangiato il micro-rosa in Siala, mi pare che si sia mangiato, o Casali, e poi ha battuto a rete, con un Davis Vaskets, un 98, schiato con il 2004-2005. Vabbè, io già ritenevo Vaskets un acquisto inutile, tempo addietro. Io continuo a pensare in questo modo, a meno che il Milan non abbia un piano specifico per lui. Ma ad ora veramente un qualcosa di super inutile. Comunque, ripeto, in generale una buona prestazione dell'Inter. Disattenta, sfortunata per quello di Casamà. Però, ripeto, il Milan, quando è stato rimasto in 10, che ha messo in campo quella voglia, che probabilmente l'ha messo in campo prima, è la partita da pareggiarla. Poi, si sono visti in questa partita due tipologie di terzini. Vuoi dire, il Fontanarosa, terzino-sisto dell'Inter, che spesso e volte ha giocato come centrale, quindi un po' più bloccato, e due del Milan, Casali e Bozzolan. E su questi due mi vorrei concentrare, perché soprattutto Bozzolan ha una bella gamba, 178 cm, classe 2004, quattro assisti di stagione. Un giocatore interessante. Ma, a livello concettuale, Bozzolan e Casali rappresentano quel concetto di terzino moderno che è completamente una fallacia logica. Perché soprattutto Casali, quando era in uno contro uno, metteva le mani addosso all'avversario. Perché? Nel senso, io sono d'accordo che il terzino debba saper spingere nel calcio moderno, ma in primis deve assolutamente saper difendere. Se tu non sai difendere, è meglio che abbandoni quella zona di campo. E io non capisco come gli allenatori si focalizzino a mettere questi giocatori che poi, in fase offensiva, sono bravi, ma in fase offensiva sono un po', non dico delle pippe, però, hanno i loro problemi. In effetti, sia nella difesa del Milan, sia in Siala che Kubis, sono stati parecchio in difficoltà da questo punto di vista, ma più che altro per un qualcosa legato alla fase difensiva del Milan. Ragazzi, perché Bozzolan e Casali non sanno difendere. Bozzolan mi ricorda il calabre della fascia sinistra, un giocatore di tanta spinta, ma che difensivamente ha le sue lacune. Anche se non hai una statura clamorosa, Casali è un po' meglio fisicamente rispetto a Bozzolan, però il corpo devi sapere utilizzare. E se tu hai una statura un po' me, ma il corpo non lo sai utilizzare, e c'è un problemino. Cioè, nel senso, le cose non vanno molto d'accordo. E quindi, ripeto, sia Bozzolan che Casali rappresentano questa fallacia logica del bravissimo terzino, che poi sono assimilabili, con le dovute proporzioni, a Robertson e a Alexander-Arnold. I giocatori che dal centrocampo in su ti fanno la differenza, ma dal centrocampo in giù sono come Attila, al flagelo di Dio, nel senso che dove passano loro, fanno, discrete volte, i danni. Mentre, ecco, Fontarosa e Dervisci sono stati un po' più compassati, hanno lasciato un po' più sfogo ai vari Martini, ai vari, non Cassama, ma Kamatè. Alexander Stankovic ha fatto quelle sue progressioni offensive, hanno coperto difensivamente gli esterni, quelli dell'Inter, anche perché, ripeto, vi era un curatolo, che curatolo è una punta pura, e un ovuso che agiva più dal centrocampo in su. Ovviamente, dietro doveva avere comunque dei terzini che al massimo tappoggiavano, andavano sparati, cosa che facevano Bozzolano e Casali, e poi Bozzolano e Casali hanno lasciato delle difficoltà, hanno messo molte volte in difficoltà i centri difensivi del Milan, che sono comunque interessanti, ripeto, come Kubi senza ziala. E io spero che, piano piano, gli allenatori cominciano a lavorare sulla fase difensiva dei terzini, perché, onestamente, mi piange il cuore vedere questi giocatori, questi difensori che non sanno difendere. Ovviamente ho voluto fare questo video del sabato, un pochino introduttivo, che vi dicesse qualcosa sul campionato primavera, elementi interessanti sia per l'Inter che per il Milan, beh, per il Milan di contro, secondo me, ve ne sono un po' di più, come ad esempio Kubis, come ad esempio Lilali, che ormai ha vent'anni ed è ora che o lo coinvolge in prima squadra o lo ve a cedere in prestito perché non può giocare ancora come fuoricuota in primavera. Bene o male questi due, ok? Stamac, c'è una bella gamba, qualcosina mi ha detto. Per quanto riguarda, invece, l'Inter ha mani basse, ovusu e Stankovic, più Stankovic che ovusu. Perché Stankovic in questa Inter può dire molto di più, ovusu lo vedete un pochino fuori ruolo, semplicemente perché l'Inter non contempla l'esterno offensivo e ovusu adora soltanto questo sa fare. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa pensate, se volete altri contenuti del genere basta che mi facciate sapere, che quando posso, pim, 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 vi rimetto, vi li butto un po' così. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!